Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video qua sul canale di Risen, io sono lo sconosciuto e finalmente è uscito il secondo trailer, o meglio il trailer ufficiale di Avengers Infinity War. Quanto attento questo film lo sapete, non mi dilungo in ulteriori chiacchiere, farò la reaction e se riesco faccio magari già un'analisi del trailer oppure solamente vi parlo un po' del trailer dandomi il parere e poi l'analisi la farò in un video a parte. Un'analisi proprio dettagliata, vedo un attimo com'è il trailer, ho un hype fortissimo, cerco di portare questa reaction subito, velocemente, poi nei commenti fatemi sapere il vostro parere riguardo a questo trailer, iniziamo, mi sposto un pochettino così ve lo metto anche qua davanti, ovviamente lo guardo in italiano. Spero che si senta bene perché l'audio sarà quello, diciamo, preso dalle casse del mio computer, vediamo un attimo come si sente, iniziamo, 3, 2, 1, via! Cos'è questo giramento? Gamora! Stavo pensando chi era. Oh madonna! C'ha l'elmo! Si mette l'elmo! Abbiamo un vantaggio Lui verrà da noi Abbiamo quello che Tano suole Perciò lo useremo Oddio! Sono senza parole Parliamo del tuo piano Non è male, a parte che fa schifo Il piano ci penserò io E in questo modo diventerà ottimo Wow C'è assieme, mi rendete conto? La fine è vicina Cosa sono sti astronavi? Cos'è sti... Metà dell'umanità continuerà ad esistere Il passato di Thanos L'ordine nero Perfettamente bilanciato Come tutto dovrebbe essere Si ricorderanno di voi Non cazzo fa K A contrastarlo Non ho parole, ve lo giuro Avrò fatto delle facce da scemo Io sono Peter, a proposito Dottor Strange Oh, usate nomi inventati Allora io sono Spider-Man Non ho parole Scusate, sono stato muto Ma veramente non ho parole Raccolgo un attimo le idee E ve ne parlo Ok ragazzi, ho raccolto le idee Non voglio fare subito l'analisi del trailer Preferisco rimandarla La farò più con calma Oggi farò uscire la reaction E magari domani l'analisi Vedrò un pochettino Allora, che cavolo di trailer è Ci rendiamo conto che Il primo mi aveva gasato Questo leggermente meno Ma comunque aggiunge hype E aggiungono cose Veramente la Marvel sa fare le cose È un trailer che ti racconta di più Ti fa capire molte cose Ma nonostante questo Non ti leva Cioè non ti spoiler a niente Rendiamoci conto di tutte le cose Che ci vuole dire questo trailer Intanto è già più un trailer ufficiale Che ci dice qualcosa di più della trama C'è Gamora che appunto Spiega ai vendicatori Chi è Chi è Thanos E quindi Sappiamo che Grazie all'incontro Tra guardiani della galassia Eccetera eccetera Scopriranno Chi è Thanos E cosa sta facendo Gli spiega delle gemme dell'infinito Si capisce che Gli Avengers difenderanno E i guerriani della galassia Eccetera eccetera Difenderanno le gemme dell'infinito Si intravedono dei momenti Del passato di Thanos Quindi si capisce che Ci racconteranno un po' Della sua storia Lo vediamo con l'elmo Cavolo quanto è fatto bene Quanto è grosso E potente E soprattutto Vediamo le prime interazioni Più scherzose Tra i guerriani della galassia E gli Avengers Nella battuta Diciamo del piano Tra Starlor e Tony Stark E ci sta Non vedo l'ora di vedere Come si conosceranno E come interagiranno I Diciamo I I due gruppi La Terra Vediamo Astronavi Il Wakanda Vediamo ancora di più Dello scontro in Wakanda Lì veramente devastante Eserciti che si scontano Campi di forza C'è di nuovo Hulkbuster Ci sono quei momenti Quasi post apocalittici Con le astronavi Che distruggono tutto Vediamo Cap che riesce A scontrarsi Contro Thanos Riesce a tenergli testa Vediamo Thor Che anche lui Ha le prese Con Thanos Cavolo Sembra quasi Rimetterci la ghirba E poi Cos'altro Cos'altro Abbiamo Cosa si può vedere Spider-Man La sua armatura Che è fatta molto bene Mi è piaciuto Sembra Un po' più moderna E dà l'idea proprio Di qualcosa di armatura Ma allo stesso tempo Ha la stessa agilità Dell'uomo ragno E per il resto Ci sono troppe cose Non so neanche bene Cosa dire Semplicemente Un trailer fantastico Le musiche Arrangiate bene Il montaggio fatto bene Ti dicono il giusto Della trama Non c'è Molto da dire Rispetto a quello Che potrei far Trasparire Con le mie emozioni Vediamo anche L'ordine nero Gli scagnozzi di Thanos E vediamo Che hanno comunque Un'importanza Si scontreranno Con Doctor Strange Alla fine Thanos appunto parla Parla Non so a chi Precisamente E fa capire Che è quasi Lì lì Per come dire Che è venuto Lì per annientarli Che sa che sono Delle piccole formiche Che gli stanno Semplicemente Intralciando Il percorso E sono davvero contento Non voglio Dilungarmi troppo Perché questo È il trailer reaction I miei primi pareri E poi farò l'analisi Ora mi calmo un attimo Poi la registro Con calma E la farò uscire domani Purtroppo domani Uscirà anche Un video Omaggio a Stephen Hawking Che è mancato da poco E però Voglio pubblicarlo Quel video Ho scensito il film Su di lui La teoria del tutto Uscirà anche L'analisi del trailer Che magari Coprirà totalmente Quel video Però non Non posso farne Comunque a meno Tengo ad entrambe Le cose Purtroppo devo pubblicarle Domani per tempistiche Eccetera eccetera Per rimanere anche Freschi sull'argomento Potrebbe anche essere Che l'analisi del trailer Esce già stasera Vedremo un attimo Sicuramente Quello che vi posso dire È che Sono entusiasmato Non Cioè Sapevo che mi sarei Gasato Come Per il primo trailer E che secondo me Era un po' più bello Ma proprio perché Era il primo trailer Era attesissimo E comunque questo È veramente Spettacolare Non ho nient'altro da dirmi Ditemi la vostra Qua nei commenti Assolutamente Creiamo una bella discussione Io penso che il 25 in sala Al 25 aprile Avrò un collasso Cioè Appena Appena parte la prima scena Il cuore mi cede Non posso reggere Un Una felicità tale Una gioia tale Ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima